Ben ritrovati, come sempre vi raccomandiamo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di lasciare un bel like se il video è stato di vostro gradimento. Ovviamente viviamo questi ultimi giorni di Natale e allora ho pensato di fare cosa, non so se buona e giusta, come dicono in chiesa, ma penso gradita quella di mostrarvi il mio piccolissimo alberello che simboleggia anche un po' la mia vita, se vogliamo, ecco perché comunque io essendo un relativista ritengo che ci debba essere sempre spazio per ogni cosa, al di là delle credenze o meno, ogni cosa abbia sempre il sacrosanto diritto di avere un suo spazio e di essere apprezzata. Chiusa la parentesi, direi definitiva sul Natale, il video di oggi è intitolato trova le differenze. Vi ricordate quando, attualmente ancora credo che ci sia, anche se purtroppo la mancanza di tempo non mi consente più di prodigarmi con risultati, devo dire, estremamente scadenti a provare a realizzare i cruciverba sulla settimana enigmistica e i vari giochi che aiutano a tenere la mente sana, come si suol dire, spesso c'era questa impostazione proprio scritta nello stesso settimanale. E c'era quel giochino dove c'era scritto trova le differenze, erano due immagini che sembravano simili ma ovviamente avevano 5-6 differenze e il gioco appunto consisteva nell'individuarle. Ecco io oggi vorrei fare il giochino della trova le differenze tra diverse edizioni, o meglio tra due edizioni di Juve, perché spesso si dice che chi come sottoscritto non ama particolarmente il gioco di questa Juve, chi è educato e naturalmente accetta, e accetto anch'io di buon grado il confronto senza essere estremamente aggressivo, ti dice ma i giocatori sono quelli che sono e quindi di conseguenza più di questo Allegri non può fare. E allora io sono andato a pescare un'altra edizione di Juventus, ce ne potrebbero essere tante, ma ho preso un'altra edizione di Juventus dove effettivamente i giocatori non erano all'altezza considerando quel determinato periodo calcistico di squadroni tipo Milan, Inter e Napoli. Alludo ovviamente alla stagione 89-90, una stagione che io porto seriamente nel cuore perché è la stagione che ha visto la Juventus realizzare il double, ma anche quella era una Juventus tra virgolette operaia. Quella squadra vinse Coppa UEFA e Coppa Italia ma non poteva certo competere né con il Milan sacchiano che si apprestava a vincere la sua seconda Coppa dei Campioni a Vienna battendo 1-0 il Benfica e nemmeno con l'Inter che aveva vinto precedentemente nella stagione 1989 il suo scudetto dei record con a capo Giovanni Trapattoni seduto in panchina preso appunto dalla Juve. Proviamo a trovare le differenze dopo aver fatto questo lungo preambolo per farvi capire di che cosa voglio parlare. Direi che sostanzialmente le differenze più significative consistono comunque nell'avere un approccio diverso a determinate partite. Vogliamo ricordarci senza fare un amarcord come finì Juventus-Milan al comunale di Torino dove la Juve vinse 3x3 reti a 0 con un Rui Barros letteralmente scatenato cioè anche quella Juve aveva dei mezzi estremamente limitati. Dino Zoff allenatore che io ho sempre stimato come uomo per la grande serietà non è mai stato un sacchiano non è sempre stato un risultatista però in alcune circostanze qui andiamo a prendere un'altra differenza capiva quando c'era da aggredire l'avversaria. Dino Zoff non giocava in difesa quando al comunale di Torino si presentavano delle squadre che sulla carta tecnicamente avevano qualcosa in meno della Juventus. Doveva giocare con difesa e contropiede con squadroni come il Milan riuscendoci peraltro molto bene non accontentandosi dell'1-0 provando sempre a pressare provando sempre ad aggredire. Questa è la differenza sostanziale e poi ovviamente visto che dobbiamo trovare delle differenze c'era anche nell'ambiente nel clima che si respirava a Torino ovviamente una voglia di rinascita una voglia comunque nonostante gli Agnelli avessero più volte dichiarato di non fare nessuna gara con l'allora scatenato presidente Berlusconi a livello di calcio mercato ma c'era questa voglia comunque di rinascere da lì la Juventus andrà a prendere Roberto Baggio cioè c'era un'idea non ci si crogiolava in questa che io la definisco così poi devo dare i meriti per i risultati darò i meriti l'ho sempre detto non posso negare l'evidenza però ci si crogiola troppo in questa mediocrità quello che a me preoccupa tantissimo che questa essenza viene vista come vincente viene sempre più vista come l'essenza della Juve non è l'essenza della Juve nemmeno quella Juve ritornando alle differenze di Dino Zoff si crogiolava in un gioco mediocre in una mentalità provinciale era una Juve che quando ne aveva l'occasione quando le avversarie le davano l'opportunità si scatenava e andava a prendersi le proprie rivincite vi voglio citare un'altra partita perché direte il 3-0 col Milan è troppo facile lo sanno ormai anche le pietre non solo dello stadio comunale ma anche tutte le pietre dei costruttori dei vari tifosi della Juve perfetto la Juventus viene eliminata ahimè anche con qualche episodio non propriamente cristallino dalla Coppa UEFA nel derby col Napoli siamo nella stagione precedente ma c'è sempre Dino Zoff in panchina 3-0 dopo i tempi supplementari segna il 120esimo Renica ma quella Juve si prende una rivincita andando a vincere all'allora San Paolo attuale Maradona per 4 reti a 2 il risultatista Dino Zoff il gioco provinciale di Zoff fa segnare alla Juventus 4 reti questo crogiolarsi nell'1-0 io non lo capirò mai anche se poi ovviamente da opinionista quando dovrò dare i meriti li riconoscerò perché poi comunque ovviamente chi vince non ha sempre ragione perché c'è modo e modo di vincere guardate l'Albodoro della Champions ed escludendo Murigno nel 2010 e Di Matteo che peraltro è stato una meteora hanno vinto tutti gli allenatori che hanno fatto un gioco che sono andati a prendere all'avversario che hanno sempre cercato di essere propositivi che hanno sempre cercato di chiudere la partita raramente ha vinto un difensivista ecco il punto ecco quali sono le differenze non solo nel gioco perché poi ognuno ha diritto di giocare come vuole ma anche nella mentalità coloro che si crogiolano in questi 1-0 che stanno diventando una sorta di Bibbia di Vangelo di un Vangelo apocrifo della storia bianconera di un Vangelo apocrifo della storia bianconera vada, non lo dico come se fossero i miei alunni non si offendano nessuno, a farsi una bella ripassata perché persino le edizioni tra virgolette operaie di Juventus, persino le edizioni di Juventus che avevano delle rose non all'altezza di altre grandi squadre si sono tolte delle soddisfazioni e hanno segnato raffiche di gol a team importanti come il Milan di Gullit, Rijkaard e Van Basten e come al Napoli di Maradona questa è la storia, non quella che ci vogliono far credere grazie